Guarda Dio boia adesso Ma dio No io non l'avevo visto Che palle di ocane Cambio caricatore Sensore cardiaco in uso Uso il sensore cardiaco Ricarica Supera Squadra d'attacco eliminata Missione completata Sei te questo? Diaba C'hai Che che cattiveria Prepotenza Che padronanza Putana Madonna L'ultimo che hai ammazzato è stato lì tutta la partita Ma mi ha ammazzato subito Ora Non so dove mettermi e cosa fare Un cazzo Dovete usare il drone per trovare una bomba Il drone ha trovato una bomba Il drone ha trovato una bomba 10 secondi 10 secondi 5 secondi ad inserimento Il disinnescatore è stato recuperato Bomba individuata L'obiettivo è raggiungerla E disinnescarla Perchè 2 secondi odio Oddio bai io non sono ancora entrato No, no, no. carica attiva sulla sinistra l'ultimo nemico rimasto disinnesco bomba avviato proteggete il disinnescatore difensori eliminati missione d'attacco riuscita non sei mai morto boia difendete l'area e proteggete le bombe la squadra d'attacco ha trovato una bomba preparare le difese nuovo caricatore rimangono dieci secondi mancano cinque secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba la squadra troppo vicino addirittura granata lanciata lanciuna granata ricarica ricarica andate la scuola e 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 la scuola uno è all'altra porta preso 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 devo venire a toccare le mancano? due preso la si si ha preso la cosa la mia grande che ho eliminato tutti i nemici che che non 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 non